E dal 25 al 30 giugno si svolgerà a Perugia il primo Paolo Rossi Academy Camp, un camp dedicato questa volta agli italiani, sarà in programma nel capoluogo umbro, sono ancora aperte le iscrizioni per poter vivere un'esperienza a 360 gradi sotto la guida degli istruttori e dei coach altamente qualificati dell'Accademia Internazionale che porta il nome di Paolo Rossi e ovviamente il campione del mondo sarà anche presente per una supervisione generale e gli attestati finali. Il campione del mondo Paolo Rossi che ha scelto Perugia come sede dell'Academy Internazionale che porta il suo nome conferma il capoluogo umbro anche come luogo del primo Paolo Rossi Academy Camp in programma dal 25 al 30 giugno. Lei ha detto che un giovane campione si coltiva, deve essere coltivato fin da piccolo e questa è la giusta occasione, questo primo camp che tra l'altro si svolgerà proprio nel capoluogo umbro, sede della sua academy. Esattamente, primo camp della Paolo Rossi Academy a giugno, fine giugno, ci saranno ragazzi e bambini soprattutto dai 6-7 anni fino ai 14-15 anni. Diciamo che è il primo, è un po' l'inaugurazione di questo perché noi solitamente facciamo un lavoro tutto l'anno con i ragazzi che arrivano da tutti i paesi del mondo, questa volta invece vogliamo tutti i ragazzi italiani, piccolini che verranno e si cimenteranno anche per le prime volte, insomma ai primi calci perché ragazzi che hanno 6-7 anni quindi sono felice di farlo qua a Perugia, ci auguriamo tutti naturalmente che venga fuori un bel camp, abbiamo delle sorprese che adesso non svelerò, non si possono svelare, bisognerà venire e quindi partecipare in qualche modo e quindi vi invito tutti quanti davvero a venire a vedere qualche seduta di allenamento, sarà veramente divertente. Le iscrizioni sono in fase di completamento ma ci sono ancora posti disponibili per vivere un'esperienza a 360 gradi grazie al team di professionisti dell'Academy che seguirà i ragazzi in tutto il percorso a partire dall'educazione sportiva, fondamento imprescindibile per apprendere le nozioni calcistiche, allenamenti, nozioni tecniche ma anche tanto divertimento. I ragazzi vogliono giocare a calcio, quindi giocheranno sempre a calcio dal mattina e il pomeriggio e poi non giocheranno soltanto a calcio ma ci sarà tutta una parte, diciamo anche ludica, quindi con l'intrattenimento, ci sono i tutor, la sera abbiamo organizzato un sacco di altre cose carine per fargli stare insieme, per non fargli vivere solo di calcio, quello hanno tutto il giorno naturalmente per farlo con preparatori, con allenatori, con chi naturalmente avrà l'opportunità di insegnare loro un sacco di belle cose, però poi all'Ateris ci saranno davvero anche tante altre cose. E al termine del camp i partecipanti potranno vivere il sogno di ricevere l'attestato finale, firmato e consegnato direttamente dalla leggenda del calcio internazionale. Possiamo dire che partirà da Perugia quello che sarà poi un progetto pilota, visto che la sua è un'academy internazionale che sta aprendo collaborazioni sempre più sparse nel mondo? È quello che ci auguriamo, noi vorremmo ovviamente non farle soltanto in una città, ma provare a sperimentarla anche in altre città, poi vedremo poi negli anni prossimi quello che riusciremo a organizzare, a fare, ma l'idea è quella di fare quest'academy, è un processo un po' itinerante, quindi che possa girare un po' tante altre città in Italia. Vorrei concludere con una sua frase, lei aveva detto in occasione dell'inaugurazione che stava cercando un piccolo pablitino, lo sta trovando, c'è ancora molta strada da fare, ha trovato dei ragazzi che hanno un potenziale? Ci sono dei ragazzi senza dubbio interessanti, c'è una statistica molto bassa, di quelli che vengono alle scuole calcio e poi riescono a diventare dei giocatori professionisti, non è assolutamente semplice e facile, però qualcuno c'è, qualcuno sta facendo progressi durante l'annata, fortunatamente abbiamo allenatori e preparatori che riescono quantomeno a motivarli, a fargli capire molte cose, a insegnarli tante altre cose, e quindi stanno, diciamo, a dire piccoli ragazzi crescono. Ed è tutto per questa seconda edizione di Tef Channel News, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Grazie a tutti.